Prima la visita del parente di un candidato della lista di Ackler e poi le minacce. Ancora caos alevico, pressioni sul presidente dei commercianti. Se non vinciamo noi, non arriveranno i contributi della provincia. Maxi Rissa a Ravina, coinvolte una trentina di persone sul posto, si sono portate diverse volanti della polizia e pattuglie dei carabinieri a far nascere lo scontro sarebbero stati i problemi tra due famiglie e Rom. In Trentino Alto Adige, il sistema sanitario più in salute d'Italia. La speranza di vita media arriva a quasi 84 anni. I dati dell'analisi condotta dall'Istituto Demoscopica. Presentata la 34esima edizione delle feste vigiliane, il tema principale di quest'anno sarà Trento nel cuore. L'obiettivo è quello di valorizzare il maggior numero di spazi in città, confermati gli eventi tradizionali. La nuova giudice della Tonka è Loredana Conte. Non sa bene l'italiano ed ora rischia di essere espulso dall'Ordine dei Medici. Succede a Bolzano e protagonista della vicenda è Thomas Müller, dirigente del laboratorio centrale dell'ospedale San Maurizio. 7.30, è ora di tornare a casa. È ora di fare la dichiarazione dei redditi. Prenota il tuo appuntamento con Caffacli su www.mycaf.it o telefonando al numero unico 199 199 730. Caffacli, dove tutto è più semplice.